Di noi di vincere, non posso sicuramente dire che i miei ragazzi non ci hanno provato, ma oggi non è stata abbastanza. Non è stata abbastanza, Cantù è stata più lucida, più cinica. Nei momenti topici della partita ha fatto le scelte giuste, noi abbiamo arrancato. Nessun problema, prenderemo spunto per migliorare, per capire come e dove andare a migliorare già a partire da martedì mattina. La squadra è viva, i ragazzi hanno comunque provato a fare il massimo possibile. Questo è di buon auspicio per la prossima partita di salto a Cremona.